E oggi Hulk Smash! Sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Facial Channel, sono Maga, oggi in solitaria come vi avevamo anticipato perché per colpa delle restrizioni io e Dalm non riusciremo sempre a fare video insieme quindi oggi vi porto un Maga Consiglio in solitaria ma è veramente una bella chicca voi condividetemi, piaciate, commentate più non posso, abbiamo Hulk, il ritorno degli eroi uscito in edizione cartonata dalla Panini Comics, è un po' più grande dei cartonati normali e mi è proprio piaciuta come storia, non l'avevo mai letta, questa storia originariamente è uscita a cavallo del 99 e del 2000 è un po' un ritorno alle origini del personaggio, un po' una rivisitazione forse da un certo punto di vista della figura di Hulk e Bruce Banner hanno sempre avuto dei problemi interiori e quali ripropongono, Hulk quando si trasforma distrugge tutto quanto e quando ritorna Banner non sa bene cosa ha combinato, ovviamente durante la storia capirete tutto quanto però per non far spoiler diciamo che hanno usato un escamotaggio che dopo comunque verrà utilizzato anche in vari fumetti successivi che però tutto sommato non rende banale la storia, anzi anche se i nemici non sono di primo spessore, Tyrannus non è che lo conoscono poi in tanti e anche c'è una pianta gigante che vabbè sorvoliamo, però comunque i veri tra virgolette nemici del personaggio all'interno del volume sono gli eroi stessi, perché quando Hulk si trasforma, quando Hulk devasta, spaca tutto chi interviene per fermarlo? gli Avengers, quindi abbiamo Visione, Wanda, abbiamo Iron Man il che hanno fatto anche bene probabilmente a riproporla in questo periodo qua visto anche la serie tv perché ritrovate dei personaggi che comunque avete visto su Disney Plus ma c'è anche un bellissimo scontro con Wolverine, lo scontro con Wolverine è epico perché Wolverine con i suoi artigli riesce ad avere un vantaggio su di lui perché lo acceca, poi ci sono botte da orbi e viene comunque poi tutto spiegato e contestualizzato bene non è il solito fumetto di Hulk, botte, spacco tutto e distruggo tutto quanto, no è tutto spiegato bene, è tutto incentrato bene sulla figura del personaggio e perché danno sempre fastidio a Hulk quando Hulk si trasforma, lui realisticamente vorrebbe solo essere lasciato in pace ma tutti quanti gli danno contro, buoni, cattivi, gli succede veramente di tutto e qua hanno dato veramente del filo da torcere al nostro Golia Verde tanto più che c'è una sfida che si è riproposta negli anni tantissime volte sui fumetti la sfida Hulk contro la cosa, sappiamo già chi vince anche se ultimamente la cosa ha vinto finalmente in uno degli ultimi fumetti dei Fantastici 4 di solito sempre ha vinto Hulk o Massimo ci sono pareggiate le cose comunque hanno sviluppato bene sia la storia sia anche i disegni e la potenza di Hulk, la possenza, i muscoli del nostro personaggio sono resi veramente da Dio quando sfogliate un albo di Hulk, secondo me la roba che colpisce di più che deve un po' farvi venire voglia di leggere il fumetto è il disegno quando si vede Hulk molto forte, molto verde, si vede tanto verde all'interno di questo volume il che è un bene è veramente una gioia per gli occhi e vi fa voglia di leggere il personaggio di Hulk troppe volte sento parlare di Hulk come un personaggio superato oppure un personaggio che è solo potenza e ignoranza no, quando ci sono proprio gli spezzoni della storia con Bruce Banner e il perché Hulk ha combinato quello che ha combinato e non aveva il controllo delle sue facoltà viene gestito con un'eleganza e una semplicità che secondo me è stata ottima anche il pezzo dove si trova nella palude per quanto sia probabilmente il pezzo dove la storia scende un po' e infatti anche quello dove si vede meno azione, un po' più spiegato e si va a vedere un po' più la psiche del personaggio viene comunque tenuto alto dalla curiosità del lettore di capire cosa sta succedendo al nostro protagonista e cosa sta combinando e all'interno anche di questo volume ci sono degli annuali usciti a quell'epoca dove si rinarra l'origine o meglio viene riscritta con l'aggiunta di qualcosa quindi un'infarinatura generale di Hulk a 360 gradi che tutti possono leggere originariamente questo volume era proprio, cioè questo ciclo era proprio il primo del rilancio della testata di Hulk quindi non c'è niente di meglio che iniziare un volume o un ciclo di storia su un personaggio da un numero 1 indipendentemente se lo fate negli anni 60, 70, 80, 90, 2000 eccetera e così via fatemi sapere la vostra, a me è piaciuto tantissimo e sapete che sono di parte però questo veramente è un bel fumetto del personaggio e sarei proprio curioso che tanti di voi commentino sotto e magari si informino anche sulla storia perché è veramente bella tanto più che il ritorno degli eroi è una nuova mini collana della Panini Comics dove fanno uscire anche Iron Man e anche i Fantastici 4 e se saranno all'altezza, se mi divertiranno, se avrò anche il tempo di leggerlo perché il tempo è sempre quello che è ve lo porteremo ovviamente sul canale da Maga è tutto, ci vediamo in un prossimo video voi condividetemi, piaciate e commentate ancora, ve lo dico seguitici su tutti i social, nella descrizione c'è tutto e c'è anche il modo per supportarci attivamente con un acquisto tramite un nostro link o tramite il sito del negozio da Maga è tutto, da Maga vi saluta ci vediamo in un prossimo video hashtag IoSonoUnVirtuale e Leggetti i Fumetti ciao ragazzi!